Il giorno è eseguito e interpretato dal cuore del santuario della Madonna del Cielo, diretto dalla maestra Barbara Grossi. Buon ascolto. Buon ascolto. Buon ascolto. In volatum, in cruci, in cruci, promile. Urius atus, vedo o lago, lunga flusti e sanguine. Vesto nobis, vedo o sabbi. Visto nobis, vedo o sabbi. Visto nobis, vedo o sabbi. Visto nobis, vedo o sabbi.